Eccoci qua, buongiorno a tutti. Oggi voglio parlare di cosa è opportuno dare ai nostri cani per pulirli i denti. Allora, secondo me un ottimo rimedio è l'osso di cinocchio. Voi andate in macelleria, comprate l'osso di cinocchio, gli date una scottata, una svolentata e lo date a rosecchiare al vostro cane. Vedrete che già dalla mattina alla sera l'osso si sarà notevolmente ridotto in dimensioni, non vi preoccupate perché è un osso spugnoso, quindi che non crea nessun tipo di problema al cane. Potrà avere un po' di feci fritose ma niente di più e è un rimedio veramente eccellente per la pulizia dei denti. Alternative c'è il corno di cervo o molte altre, però insomma secondo me il prodotto più facile da reperire e anche piace più ai vostri cani è senz'altro l'osso di cinocchio che è un rimedio veramente molto utile e che io vi consiglio assolutamente per la pulizia dei denti dei vostri amati beagle. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.